Un'ondata di caldo, quella che ha colpito in questi giorni la nostra Sicilia, che ci ha fatti sentire ancora in piena estate. Una fiammata di calore proveniente dal Nord Africa che ha fatto salire la colonnina di Mercurio su tutta la penisola, ma in particolare al sud, dove le temperature hanno superato abbondantemente le medie di stagione, anche di 10 gradi. In tanti ne hanno approfittato per godersi qualche giorno di mare in più, specialmente i turisti che hanno preferito evitare le affollate spiagge di agosto. Meno felice che è rientrata a scuola e lavoro con l'insopportabile AFA. Già da domenica però le temperature saranno in rialgio e la settimana prossima cominceranno ad allinearsi con le medie stagionali. Non mancherà qualche nuvole, gli esperti annunciano possibile instabilità. L'estate settembrina comincerà così a lasciare piano piano il posto all'autunno.